H24, evviva! Abbiamo trovato il posto perfetto per noi Supermercato H24 Carrefour Sicuro non chiude ora il supermercato Staremo tutta la notte qua, andiamo! Eccoli qua, i pomodorini bio Marchio Carrefour, i pomodorini non li prendiamo mai I pomodori, le prugne, le banane Tutto bio Anche le carote, prendiamo tutto L'ho comprato in vacanza, lo yogurt Carrefour Ah, è quello che è buonare E' buono, è buonissimo E dai, prendiamolo L'ho visto che qua ci stanno tanti yogurt greco C'è anche il Totale, c'è quello al caffè, il Feige Tutti i nostri amati Quindi facciamo un po' di scorta anche di Ah, questo anche scaldasole che noi abbiamo E quello, quello là Oddio, se lo riesco a riprendere No, è fin alto, eccolo là E ho un po' proprio caffù Eh, ti stai contenta? Ok, dai, prendiamo questi qua E poi c'è quello Prendiamo quello Ma non ce l'ho Non ce l'ho, basta Dai, ti spingo io, dai, vai Ce la fai Ci sono pure tutte le centrifiche Troppo, troppo belle Centrifiche al melone All'ananas Queste che cos'è? All'anguria C'è fantastiche Le belle Prodotti bio Wow Eccoli qua Questi sono tutti i semini Guarda La quinoa Con i cereali Tutti i semini Sto buttando tutto I bocconcini di soia Vabbè Questo comunque È ottimo Tutto il reparto Tutti i decumi bio C'è tutto Peperoncino Semi di papavero Ecco Questi sono i semini Che io adoro E che mettono in insalata Questi qua tutti misti Ma la carte non ci stanno C'è rotto No vabbè Sì Qua ci sta Sta frutta secca Che è anche buona Noci E poi ci sono tutti questi qua Prendiamo Prendiamo questi qua Le noci Le mandorle Che prendiamo Prendiamo qualcosa di queste Le mandorle Ah ci sono poi anche quelle Con la buccia Prendiamo anche i nostri amati Semi di chia E prendiamo anche questa Quinoa cereali Che dici La vogliamo provare Nuovo Sì sì È buono Proviamola con me Che a noi piace tanto la quinoa E poi c'è anche il camut Io ho fatto il video Dell'insalata di camut Buonissimo Guarda che ho trovato I nostri amati Burger di seitan Poi c'è quale vogliamo migliare Spinace e tofu Che dici spinace e tofu È bene E pure questo qua Mibio e soia Tofu Mibio e soia Ma questa è una cosa Perché non l'ho mai assaggiata Di mirtillo vai O fragola No Mirtillo vai O tutti e due Propriamo mirtillo Dai che fa tanto bene Alla circolazione Mirtillo E poi le fette biscottate Carrefour Ai 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 Carrefour Ci cadi sulle fette biscottate Perché Olio di palma Quindi non vanno bene E le posiamo Ci dispiace tanto Ci sono queste qua Di misura Che hanno fatto una cosa Oltre Hanno tolto l'olio di palma Da parecchi prodotti Però controllate sempre Infatti queste qua Ve lo volevo dire Che contengono appunto Farina C'è olio di girasole Quindi non c'è Infatti molte ragazze Le avevano detto che c'erano Brave ragazze Molto meglio queste qua Qua c'è un reparto Bellissimo Di olio Aceto Almabio Poi c'è Vipipio La quinoa Che questa è Buonissima E infatti Noi la compriamo sempre E prendiamola pure La quinoa Poi ci sono i legumi Poi ci sono questi qua Sempre al ceniro Poi c'è il riso Ah anche le bacche di colti Brava Poi c'è il riso integrale I sobasmati C'è pasta C'è il tamari Salsa di soia Guarda Tutto biologico Quindi tutto ottimo E poi qua cosa c'è Biscotti Caffè verde Ci hanno cacciato E' vero Comunque la cosa figa E' che sono tipo le dieci e mezza Vi faccio Vabbè Non si vede Comunque si sono le dieci e mezza E' notte E' notte E' la cosa che si può andare di notte E' proprio perfetta per noi Comunque niente Ci hanno cacciato E' perché hanno detto Che non si può filmare Quindi ci sono dovute andare E' peccato Perché uno fa Tanta pubblicità positiva E invece No Vabbè Comunque vi mostriniamo Tutto quello che abbiamo comprato Lo mostriamo Oppure non lo mostriamo Facciamo Sono stati cattivi Sono stati cattivi Non lo sappiamo Se facciamo il video Quello volete Che poi tra l'altro Vabbè Mò abbiamo fatto questo video Non sappiamo cosa ci succederà Ma noi lo facciamo Solo per amore del bio Quindi Poi abbiamo qua Lo scontrino Eccolo qua Carrefour La bellezza di 129 euro Abbiamo speso E' costoso Grazie Sì Vabbè Ecco Abbiamo fatto tante cose Poi faremo vedere Facciamo il video Adesso siamo qua Che mangiamo Gallette di Siamo fermi in macchina E mangiamo Sganocchiamo Perché poi c'è venuta fame E quindi ci mangiamo queste cose Che sono un buon amore E non mi buffo Buonissime Comunque la cosa bella Che ho incontrato Due ragazze E poi ho incontrato Il fidanzato di una ragazza Troppo troppo carina Ci siamo fatti la foto Bando un bacio alla ragazza Che non mi ricordo Come si chiamava Adesso Ha detto Adesso impazzisce Vedete la foto Quindi Sono contentissima Troppo troppo carina E quindi Speriamo tanto Che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Se siete nuovi Iscrivetevi anche A questo canale E se vi è piaciuto Mettete un bel pollice in su Così facciamo tanti altri video Ci facciamo cacciare Tanti altri supermercati E vi mandiamo tutti i baci Ciao Ci volevano restare al supermercato Sa male la mola Ma che facciamo cacciare al supermercato Dai se non è piaciuto Dai vai Dai vai Ma ma che faccia fai? No faccio cacciare Ci volevano arrestare Ci volevano arrestare Ma c'è anche se c'è più di più sciacoli Ah, mi sta affogando Ma tu mi lo Ma sei proprio l'ingordo Te, so buone, te Ma c'è la sua So buone, so buone E te, non c'è la sua A te, lei Oh, ma